Sono entrato nel mondo di mercoledì e mi ha dato l'effetto di cecità Una volta finito l'effetto vedo subito dei misteri e mi ci avvicino Ok, qua sembra esserci effettivamente qualcosa Ok, se entrate nella mia base segreta vi spezzo le ossa Non so esattamente di chi sia questa base e non voglio saperlo Ovviamente andremo a vederla, tranquilli, però direi che prima abbiamo bisogno di un'armatura raga Fermi tutti, ho sentito un rumore Ok, non mi spaventano gli altri rumori Mi interessa solo di mercoledì ora, non di altro, anche se è strano Beh, qua decido di fare il dunis e cercare i diamanti Qui noi siamo i più forti Beh, direi che possiamo tornare in superficie Direi di farci un'armatura raga perché è importante Ricoperto in diamanti Ok, andiamo Forza, tecnicamente io ho la spada più forte Bene, direi che la casa di mercoledì Credo sia mercoledì da quel cartello Sembra veramente molto bella Cioè, è fatta bene E vabbè, andiamo da questa parte Ok, questa sembra effettivamente una cucina Mettere il forno a 220 gradi Mercoledì, scusami tanto, ma sei impazzita? Ma da quando è che hai questa sorta di mania per il forno? Cioè, non sapevo cosa c'è, qualcosa nel forno No, ovviamente Però vedo che qua se la mangia di brutto mercoledì Ma tanto, tanto Vabbè, interessante, mi fa piacere Legge anche dei libri Vabbè, ok, andiamo avanti Non vedi niente Ok, ho tolto le shader perché non si vedeva niente Questa è un'altra stanza Ehm, dice Mano sta No, aspetta un attimo Non posso andare avanti E vede effettivamente che è pieno di quadri Il che mi fa insospettire Aspetta, leggiamo prima qua Mano sta davvero esagerando È completamente fuori di sé Io non so più come fare L'unica cosa è farla fuori Ma mercoledì mi sembra un pochettino esagerato Non credi Però per un qualche motivo è diventata più forte Nota Il suo punto debole sono sempre state le dita Ok, secondo me qua mercoledì Stava progettando di far fuori Mano Ehm Però sembra che Mano Fosse diventata per un qualche motivo più forte Il che mi fa un attimo insospettire Mi fa dire Qua gatta ci cova Eh Gatta ci cova Perché non è possibile questo qua Allora, secondo me qua Tecnicamente è l'unico posto in cui si poteva Fare l'entrata Perché poi qua c'erano anche quadri Ok, quindi qua si può andare Effettivamente questi sono dei blocchi invisibili Cioè si doveva per forza trovare il passaggio segreto E qua Se appunto avevo capito bene No Ah, sì invece Avevo capito benissimo Ok, aspetta un attimo Mercoledì cara Sì, è proprio mercoledì Ti dirò Sei brutti Cioè quando ti arrabbi sei bruttissima Però Ehm Non mi fai paura Perché sei solo un NPC Sei un robottino dentro il gioco Guarda come gioca Un vero professionista Scendo anche in ring Non mi fai paura mercoledì Eh no, mi spiace Olè Dai Forza Cosa c'è mercoledì? Non riesci a farmi abbastanza male Ma io quanto male ti faccio invece? Forse un po' di più vero Però scusate Notate un attimo che Questa stanza è piena di sangue Io ora Finisco mercoledì Oh Mi spiace mercoledì Ho dovuto farlo Nessuno verrà a saperlo Cosa vuol dire? Ok Questa cosa è abbastanza inquietante Mercoledì Cosa hai fatto? Allora Prenditela con i più grandi Tipo E Scusami un attimo Adesso andiamo fuori Perché lì avevo visto un altro mistero Ma mercoledì Scusatemi Cioè Ho capito bene Mercoledì ha fatto fuori mano E questo che volevano dire Non ho capito Perché sembrava veramente intenzionata a farlo Però Sembrava anche che mano fosse per un qualche motivo diventata più forte E invece non mi sembra a me Insomma è possibile che sia diventata Cioè Ok Non sto capendo niente Scusate Però qua effettivamente vedo che c'è un ascensore Oh no No Io qua non ci vado Esco No Per favore È scomparso l'ascensore Ok Allora Io a volte sono spavaldo Sì Però Una persona intelligente sta anche quando preoccuparsi E questo è il momento di preoccuparsi Anche perché Correva Andando indietro Ok Sono molto esposto Qua ci potrebbe essere veramente un vero pericolo Qua purtroppo ci potrebbe essere Un vero pericolo Perché soprattutto dietro di me Ok 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 Unes Un vero Una vera persona intelligente Sa anche quando è il momento di scappare Quando avere paura Scappa Scappa Veloce Non ti perdere d'animo Ok Mercoledì è dietro di me Mercoledì mi sta inseguendo Ma è tutto sotto controllo Finché mercoledì non mi fa niente Via Ok Non mi sono affatto spaventato No 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 Io Quando mai Devo dire la verità È stato molto spaventoso Però Ce la si è ancavata Scappando Perché era l'unica possibilità di farcela Mi sa qua Perché Mercoledì era Ho visto pure che c'era scritto Angry Wednesday Che praticamente sarebbe mercoledì arrabbiata Quindi Direi Non Esponiamoci troppo Stiamo sul sicuro E Ritorniamoci nel nostro villaggio E Cerchiamo di capire meglio Questo dannato mistero Perché È assurdo Iscrivetevi Ovviamente al canale Lasciate per favore il like E siete migliori Grazie Grazie a tutti